Capelli lisci e scuri, fisico sottile, lo sguardo dolcissimo di chi ha fiducia nel mondo. Ha 15 anni appena e quei suoi occhi grandi non passano inosservati. E infatti qualcuno la nota e disegna per lei un futuro da star. E così sarà per un po'. Lei è la ragazza italiana che conquista Hollywood, quella opulenta degli anni 50, la cui vita si intreccerà con quella di un attore morto all'apice del successo e consegnato al mito eterno, James Dean. Fra verità e leggende, benvenuti a The Hollywood Boulevard. Oggi vi parlo di Pierangeli. Pierangeli nasce il 19 giugno del 1939 a Cagliari. Ha una sorella gemella, Maria Luisa, e i genitori sono Luigi Pierangeli ed Enrico Rumiti, entrambi originari di Pesaro. Le bimbe nascono a Cagliari, ma non ci resteranno molto. Il destino della famiglia Pierangeli non si compirà in Sardegna, ma nella città eterna, Roma. Sebbene non fossero identiche, Anna Maria e Maria Luisa, detta Marisa, sono entrambe molto carine. Eppure, dirà Enrica, la madre, c'era qualcosa in Anna Maria, per tutti Anna, che la faceva sempre spiccare fra le due. Un'eleganza, uno charme, un carisma, un guizzo, che faceva già intravedere la ragazza e la donna che sarebbe diventata. Un fascino che colpisce anche il padre Luigi, un uomo descritto come molto conservatore, poco incline alle smancerie, severo e dispotico, ma che aveva un debole per Anna, o, come la chiamava lui, Annarella. Annarella al padre poteva chiedere qualsiasi cosa, ed egli avrebbe fatto il diavolo a quattro per accontentarla. Un rapporto esclusivo e di codipendenza, che Anna e me ricercherà in ogni uomo che incontrerà. Anna e Marisa non sono solo diverse fisicamente, ma anche caratterialmente. Sorridente, curiosa, dai grandi slanci e sempre pronta a posare davanti la macchina fotografica, è Anna. Altera, accorta, diffidente, dotata di un delizioso broncio di ordinanza e poco incline a posare Marisa. Ma per il momento le Pierangeli sono solo delle ragazzine che anche sotto le bombe dei tedeschi sono felici e spensierate. Le ragazze Pierangeli, a cui successivamente si aggiungerà anche Patrizia, riceveranno un'educazione rigida. Enrica era ossessionata dalle buone maniere. Parlate poco e a bassa voce ripeteva loro continuamente. E Anna imparò talmente bene la lezione che quando parlava la sua voce era un sussurro appena udibile. Non amava la scuola Anna e dopo gli anni trascorsi in una Roma devastata dalla guerra, tutto ciò che voleva era diventare un'artista, dipingere o scolpire, vedere il mondo, appassionarsi di qualcosa, sentirsi viva. Marisa invece voleva essere una ballerina. Sua nonna, come suo padre, però, storceva il naso ed era solita ripeterle. Piccina, cerca di un altro sogno. La polvere del palcoscenico è pericolosa. Luigi poi non ne parliamo. Per lui, attrice e ballerine erano solo donne di poco valore che esponevano i loro corpi. All'età di 15 anni, Anna Maria letteralmente sboccia. Ed è proprio in quel momento che il destino bussa alla sua porta. È il 1948 e Luigi, dopo la fine del fascismo, era diventato un architetto molto quotato in città. I suoi clienti erano tutti molto facoltosi. Una in particolare era la diva del muto Rina de Liguoro, che viveva in un appartamento di un palazzo progettato dallo stesso Luigi. Un giorno una disperata Rina chiamò Luigi a casa. La donna al telefono strepitava perché il suo appartamento era completamente allagato. L'uomo con rassegnazione si preparò ad andare, ma chiese ad Anna di accompagnarlo. Giungono così all'appartamento della de Liguoro, che però non era da sola. Lì insieme a lei c'era un uomo, un certo Leonide Mogai, un discreto regista francese, che non appena vide Anna, divenne una statua di sale. Punto il dito verso di lei ed esclamò «Eccola, è lei, è la mia Mirella!» Anna non capiva. Se ne stava lì con quell'omone che esultava chiamandola Mirella e in tono concitato le spiegava che sarebbe stata perfetta per il film che stava scrivendo con lo sceneggiatore Marcel Orchand. E fu solo in quel momento che Luigi, con lo spirito protettivo di un'aquila reale, si frappose fra l'uomo e la figlia e lo redargui in malo modo, precisando che nessuna delle sue figlie avrebbe mai fatto cinema. Poi giro i tacchi e insieme alla figlia andò via. Le ultime parole famose, è il caso di dirlo. Sembrava un episodio finito lì, ma non fu così perché una settimana dopo successo un fatto ancora più strano. Un incontro, anche questo, che le cambierà la vita. Un bel giorno di primavera Anna uscì dalla scuola d'arte e con i suoi libri sotto braccio stava percorrendo via Veneto insieme a un'amica diretta a una mostra d'arte che volevano assolutamente vedere. Lungo la strada attraversarono uno dei tanti caffè con i tavolini fuori della famosissima via romana. Seduta a uno di quei tavoli c'era un uomo molto elegante dai capelli leggermente brizzolate alle tempie che sorseggiava il suo caffè e nel frattempo scrutava i passanti. Il suo era un viso indimenticabile, quello era Vittorio De Sica. Quando Anna gli passò davanti il maestro De Sica ebbe un sussulto, si alzò di scatto e letteralmente la seguì. Nelle sue biografie ufficiali questo episodio è raccontato in un altro modo ma è questo è quello che la stessa Anna ha raccontato in un'intervista. Sì, Vittorio De Sica seguì Anna fino alla galleria, si avvicinò alle ragazze e si presentò. Anna lo riconobbe subito ma non osava guardarlo. Dopotutto, quell'uomo lei lo aveva visto solo al cinema ma fu ciò che le disse che la sconvolse davvero. De Sica le fece un delicato bacio a mano e poi le disse tu saresti perfetta per il ruolo di Mirella. Eh sì, la stessa Mirella di quell'altro regista Leonide Mogai appena sbarcato a Roma da Parigi in cerca della protagonista perfetta per il suo film. Ora, quante possibilità c'erano che in una settimana due persone diverse le facessero la stessa proposta per lo stesso ruolo? Io direi pochissime. Era o non era scritto nel destino? De Sica tirò fuori dalla tasca il suo obiettivo da visita lo porse ad Anna e se ne andò. Il resto è storia. Nel 1950, appena diciassettenne, Anna Maria Pierangeli appare per la prima volta sul grande schermo nei panni di Mirella, la protagonista della pellicola Domani è troppo tardi, regia di Mogai che forse non si pronuncia così però... mi saprete dire. Nel casting, un ruolo minore è proprio lui, Vittorio De Sica. Domani è troppo tardi è un melò in piena regola che racconta le vicissitudini d'amore di un adolescente un po' introversa, Mirella, cresciuta in una famiglia bigotta e che si innamora di Franco che però preferisce donne più mature e sembra non contraccambiare il suo sentimento. Ovviamente, essendo un film strappalacrime non può mancare il dramma in cui Mirella, neanche a dirlo, rischia la vita ma poi, alla fine, tutto si risolve e i due si scoprono felici e innamorati. L'interpretazione di Anna Maria è autentica e genuina e in un panorama cinematografico dove primeggiavano le cosiddette maggiorate dalla Lauren alla Mangano alla Lollo Brigida il viso pulito, fresco e gli immensi e dolcissimi occhi neri di Anna Maria Pierangeli sono un'assoluta novità ma sono soprattutto le sue doti da interprete a fare la differenza. Un'interpretazione che elevarrà il suo primo nastro d'argento primo e unico. Anna Maria era frastornata e felice di quell'opportunità ma c'era qualcuno di molto vicino alla ragazza che era davvero al settimo cielo. la madre Enrica sì perché Enrica aveva sempre nutrito l'ambizione di diventare un'attrice da ragazza aveva fatto teatro a livello amatoriale e moriva dietro le riviste di cinema e gli attori di Hollywood. Potete quindi immaginare l'orgoglio di una madre che realizzava tramite la figlia le proprie ambizioni quelle che i suoi familiari avevano cercato in ogni modo di reprimere perché per loro fare l'attrice non era decoroso. La prima esperienza della figlia come attrice però non fu tutta rosa e fiori Anna era estremamente intimidita dalle luci dal regista dalla troupe oltre a fatto che come da copione avrebbe dovuto baciare il coportagonista l'attore Gino Leurini e Anna non ne aveva alcuna intenzione perché la imbarazzava troppo. Per due giorni quella scena rimase in sospeso veniva messa in scaletta e poi cancellata in attesa che qualcosa arrivasse a convincere la ragazza sulla necessità ai fini della trama di baciare il povero Gino. Ogni volta che ci provavano finiva con Anna che schivava le labbra del povero attore. Mogai non ne poteva più e quando fu lì per perdere le staffe Anna gli disse che l'avrebbe fatto solo se tutti si fossero girati dall'altra parte ma non era possibile e allora Anna si fece forza e decise di girare la scena dentro però tremava dall'imbarazzo e quando finalmente Gino le mise le braccia attorno alle spalle delicatamente spinse le sue labbra contro le sue Anna dalla forte emozione svenne ma fu buona la prima. Chi invece si era opposto con tutte le sue forze a quel film era il padre di Anna Luigi e la ragazza che non voleva deludere il padre accettando quella parte di contro non voleva neanche deludere la madre rinunciandovi. Un tormento quello di Anna che l'accompagnò per tutta la lavorazione del film e per quanto sul set fosse coccolata da tutti spesso cadeva in una profonda agitazione o in violente crisi di pianto Enrica però fu irremovibile e tanto pretese che il marito controfirmasse il contratto da minacciare di far fallire il matrimonio e rovinarlo ma Luigi si godrà per poco il successo della figlia perché morirà prematuramente a soli 40 anni. Anna Maria Pierangeli nel 1951 recita anche nel cosiddetto seguito anche se seguito non è di questo film domani è un altro giorno ma il suo biglietto per Hollywood arriva quasi per caso e non sarà legata a quell'unica esperienza di attrice ma a una serie di congiunzioni astrali che capitano forse una volta nella vita e chi l'avrebbe mai detto che un'anonima adolescente per giunta italiana che fino a qualche mese prima faceva solo il liceo si sarebbe ritrovata niente di meno che ad Hollywood di certo non l'avrebbe detto Enrica no i suoi sogni seppur ambiziosi non si sarebbero mai spinti così in là il film che segnerà il debutto ad Hollywood di Anna Maria Pierangeli è Teresa del regista premio Oscar Fred Zimmerman uno che per dirne una aveva tenuto a battesimo un giovane attore che di nome faceva Marlon Brando nel film Uomini il mio corpo vi appartiene lo stesso sceneggiatore del film Uomini si presentò nuovamente a Zimmerman perché interessato a fare un film sulle cosiddette mogli di guerra cioè tutte quelle ragazze europee che avevano sposato militari americani di stanza in Europa e che dopo la guerra avevano intrapreso un lungo viaggio verso gli Stati Uniti sposate a uomini che a malapena conoscevano in un paese straniero Zimmerman era un regista il cui approccio era estremamente realistico lo potremmo definire un neorealista d'oltreoceano uno che amava portare sullo schermo attori semisconosciuti e fu lo stesso per Teresa Zimmerman non voleva una starletta già nota voleva una ragazza italiana che avesse ancora intatta l'innocenza di chi non ha dimistichezza con la cinepresa Teresa avrebbe raccontato la storia del matrimonio tra un soldato americano e la sua giovanissima moglie italiana conosciuta durante la guerra Teresa Russo che sposa e porta con sé negli Stati Uniti Teresa non sa cosa l'aspetta con un uomo fragile infantile ed emotivamente dipendente dalla madre una donna dominante e che la farà soffrire ma che alla fine proverà ad adattarsi a quella nuova vita e a difendere il suo matrimonio Zimmerman quindi cercava una ragazza italiana molto giovane ma non aveva tempo di volare fino a Roma e quindi letteralmente sguinzaia gli agenti della MGM con il mandato di portargli una meravigliosa ragazza a capo della missione lo sceneggiatore Stuart Stern il quale giunta a Roma per prima cosa fece pubblicare degli annunci nei maggiori quotidiani qualcosa tipo MGM cerca ragazza per nuovo film di Hollywood la vogliamo italiana con nessuna o quasi esperienza e molto molto giovane i provini si sarebbero tenuti a Roma e potete solo immaginare l'orda di ragazze accompagnate dalle madri che si presentano alle audizioni peccato che dopo aver provinato migliaia di ragazze il povero Stern non solo era allo stremo delle forze ma non aveva ancora trovato la sua Teresa c'era sempre qualcosa che non andava troppo impostate troppo truccate troppo ammiccanti no la sua Teresa doveva essere innocente come acqua di fonte e quando Stern stava quasi per arrendersi ecco la fortuna prenderlo per mano e portargli la sua Teresa un'attrice molto giovane con un unico film alle spalle qualcuno dice a Stern questa la devi vedere potrebbe essere lei Stern sapeva solo che Vittorio De Sica ne parlava in termini entusiastici quando Stern la vide ebbe probabilmente la stessa reazione che un paio di anni prima ebbe Mogai She's the one She's the one il suo viso di Rasterne emanava quella purezza che lui sognava di trovare nella sua Teresa era il 30 gennaio 1950 iniziava per Anna Maria Pierangeli la grande avventura d'Hollywood a farle da scudo per tutto il tempo c'era sempre lei Enrica presenza costante nella vita della giovane attrice e anche in quella di Marisa che intraprenderà anche lei una discreta carriera cinematografica con il nome d'arte di Marisa Pavan dopo le riprese girate in Italia il set di Teresa si spostò a New York una volta atterrata Anna volle come prima cosa comprare un vestito da cowboy un piccolo souvenir da riportare in Italia quando tutto sarebbe finito ma in Italia Anna Maria ci tornerà solo per un breve periodo perché la MGM non solo si limitò a farle firmare un contratto per il film ma le propose di far parte della sua scuderia con un contratto di sette anni questo però comportava il doversi trasferire a Los Angeles e quando Enrica andò a consultarsi con Arthur Stern quest'ultimo le dirà non faccia crescere sua figlia da Hollywood mi ascolti Enrica accolse il suo suggerimento sì sarebbero rimaste a Roma e all'occorrenza avrebbero viaggiato fino a Los Angeles con questa clausola Anna firmò con la MGM un contratto di sette anni Enrica stava finalmente vivendo attraverso la sua preziosa figlia il suo sogno hollywoodiano nel frattempo la macchina del marketing si era mossa e per prima cosa gli agenti della MGM decisero di accorciarle il nome Anna Maria Pierangeli era decisamente troppo lungo molto meglio Pierangeli Anna si oppose con tutte le sue forze ribattendo che in italiano Pier era un nome maschile che si accompagnava ad altri nomi maschili cosa c'entrava con lei ma gli agenti della MGM lo trovavano esotico le diedero una pacca sulla spalla e se la filarono per loro la discussione era chiusa inutile dire che non permise mai che qualcuno la chiamasse Pier in privato per tutti sarebbe stata sempre Anna la macchina del marketing comprendeva anche la comparsa della nuova star italiana sulle maggiori riviste di gossip e costume e non sempre in termini rispettosi e molto spesso paragonandola ad altre attrici come la Bergman Rita Hayward e dire che Anna era lontanissima da queste meravigliose attrici sempre senza trucco sempre compita che vestiva abiti quasi castigati e che i paparazzi al massimo immortalavano con un gelato in mano e poi successe l'inevitabile Anna iniziò ad avere dei flirt il primo in ordine di tempo fu il figlio del produttore di Teresa il ventottenne Arthur Loyu Junior lo avrò pronunciato male sicuro mi scuso a Enrica Arthur piaceva molto più che ad Anna Maria la donna ne era affascinata la faceva ridere e poi era figlio del capo la pragmatica Enrica guardava decisamente oltre era lungimirante ed era convinta che la figlia dovesse puntare in alto molto in alto e chi meglio del figlio di un produttore di Hollywood per avere successo nel cinema in realtà fu un flirt senza importanza ma che convince Enrica a proteggere la sua bambina dall'Aidi approfittatori nessuno avrebbe frequentato la sua preziosa figlia senza il suo consenso la premiera di Teresa ebbe luogo al Translux Theater di New York il 5 aprile del 1951 Zimmerman che non era affatto soddisfatto del film fu invece assolutamente entusiasta della performance di Anna così come lo furono i tabloid e la critica che letteralmente la sommersero di elogi Anna aveva rubato la scena a tutti e il suo debutto fu un trionfo per tutti era nata l'erede della Garbo Anna come d'accordi tornò in Italia con la madre e la sorella Marisa per girare il poco fortunato sequel del suo primo film italiano che poi sequel non era Domani e un altro giorno ma nel bel mezzo delle riprese Luigi il padre di Anna morì di infarto a quel punto rimasero da sole Enrica e le figlie e senza Luigi e una carriera da costruire che senso aveva rimanere a Roma ed è qui che davvero inizia la storia di Pierangeli la piccola Garbo a Los Angeles affittarono una villa stupenda tutto però era diverso la lingua il cibo la cultura qualcosa a cui Enrica faceva fatica ad adattarsi e poi lo stile di vita dei giovani di Los Angeles era per lei scandaloso andavano da soli alle feste bevevano fumavano e lei con tre adolescenti era chiaramente preoccupata e mai permise che le figlie adottassero quello stile di vita le sue ragazze dovevano comportarsi a modo mai uscire da sole sempre accompagnate da lei ovunque andassero mai con abiti inappropriati e soprattutto mai avere flirt con qualcuno dei numerosi fans che ogni giorno assiepavano la porta di casa in cerca di un autografo e su quest'ultimo punto fu estremamente ferma le ragazze ovviamente presero subito lezioni di inglese e in poco tempo appresero la lingua Patrizia poi che aveva solo otto anni e che frequentava la scuola a un certo punto quasi dimenticò l'italiano quella che arrancava invece era Enrica che non riusciva ad avere il controllo sulla carriera della figlia perché non poteva comunicare con il suo scarso inglese insomma gli inizi furono duri ma Anna si adattò facilmente divenne molta amica dell'attrice e cantante Debbie Reynolds che tanto avrebbe aiutato Anna nei suoi momenti peggiori del quartetto delle Pierangeli le castigatissime Pierangeli Anna era di certo la vera star e tutto girava attorno a lei ma anche Marisa considerata da sempre la cenerentola della situazione sempre un passo indietro alla gemella anzi letteralmente all'ombra di Anna si prese la sua fetta di popolarità firmando un contratto con la 20th Century Fox per cui girerà il suo primo film What Price Glory con il nome di Marisa Pavan per distinguerlo da quello della sorella in realtà il contratto le fu offerto perché il suo visto era in scadenza Marisa non voleva davvero fare cinema ma scoprì che recitare le piaceva proprio tanto a 19 anni Anna era un vero incanto ma qualcosa in quella carriera che le avevano paventato stentava a decollare tra il 51 e il 53 girò 5 film ma nessuno di loro fu memorabile i suoi personaggi seppur in contesti sempre diversi per lo più ricalcavano lo stereotipo della ragazza innocente tanto caro a chi l'aveva conosciuta con Teresa gira anche il film I lupi mannari con il noto attore ballerino Gene Kelly un film che l'attore rinnegherà per il resto dei suoi giorni che fu frustrante da girare anche e soprattutto per la presenza costante della madre di Anna Enrica che come un segugio non mollava la figlia per un attimo che la viziava e che non l'aiutava ad avere un carattere indipendente soprattutto a essere molto più professionale sembrava che qualcosa si fosse rotto emergevano sempre più nuove starlet e piano piano Pierangeli smise di essere nelle grazie della MGM la major infatti non faceva che annunciare grandi produzioni con protagonista Pierangeli ma poi non se ne faceva mai nulla come nel caso eclatante di una trasposizione cinematografica della tragedia shakespeariana Romè e Giulietta a fianco di Marlon Brando anche lì la faccenda sfumò in un nulla di fatto un'altra produzione li aveva bruciati sul tempo e mentre Brando ebbe modo di brillare in Giulio Cesare la stessa opportunità non venne data a Pierangeli anche il successivo film sombrero del 1953 tra di le aspettative era un film pieno di cliché e personaggi stereotipati che non convinse mai del tutto inoltre le notizie che arrivavano in Italia dell'attrice erano per lo più notizie di gossip che apparivano nelle riviste scandalistiche dove si mostrava la vita mondana di Anna e il suo frequentare sempre un uomo diverso o che fosse in procinto di sposare Arthur Loi di cui era ormai solo amica quando lo scoprì ci rimase malissimo i suoi film sembravano sempre avere un'importanza secondaria rispetto ai flirt che di volta in volta le appioppavano alcuni totalmente inventati altri veri come quello con Kirk Douglas suo partner nel film storia di tre amori i due avranno una tenera relazione che però fu contrastata indovinate da chi? da Enrica non tanto per i 16 anni in più di Kirk un matrimonio e due figli ma perché di religione diversa e poi per la sua fama da Don Giovanni insomma Kirk non aveva le carte in regola per passare il rigido test di Enrica e non sarebbe stato di certo l'unico ma Kirk si era davvero innamorato di Anna e per qualche mezzo ma uno come Kirk non era tipo da arrendersi e il giorno del suo ventunesimo compleanno la raggiunse a Londra dove si trovava la portò a cena al Caprice un ristorante francese a Mayfair e offrì ad Anna una delle serate più belle della sua vita che si sarebbe conclusa con una proposta di matrimonio e un anello di diamanti di Bulgari al dito ma non finirà bene i due dopo quella cena non si vedranno per mesi e per quanto Kirk si considerasse il suo fidanzato Anna di Contro era sparita dai radar e un bel giorno a Parigi gli restituì l'anello lui se lo mise in tasca e fece per andarsene lei lo fermò e gli disse ci vedremo domani no rispose lui domani è troppo tardi l'idilio d'amore non ebbe il suo lieto fine ma è nel 1954 che nella vita di Anna accade qualcosa che forse cambierà il corso della sua vita nel 1954 Pierangeli venne prestata dalla NGM alla Warner Bros che la voleva nel cast del film Il Calice d'Argento che rappresenterà il debutto di Paul Newman sul grande schermo un pretenzioso colossal ambientato nell'antica Grecia un film scritto male e girato anche peggio e che fu stroncato da tutti la prima settimana di riprese del Calice negli studios della Warner Bros si stava girando un altro film La Valle dell'Eden diretto da Elia Kazan interpretato da un attore al suo primo ruolo da protagonista un ragazzo occhialuto dai capelli chiari timidissimo e che girava sempre con un libro in mano e che sembrava lontanissimo dagli standard dell'epoca non era altissimo non era muscoloso anzi era piuttosto mingerlino e con la fama di essere un tipo piuttosto umorale un attore però che in soli tre film gli unici della sua brevissima carriera entrerà nel mito eterno il suo nome è James Dean per tutti Jimmy ah a proposito se volete un video su di lui ditemelo nei commenti e vi accontenterò i due set quello del Calice e quello della Valle dell'Eden erano adiacenti e dentro la fine di quella settimana i due si erano già conosciuti le circostanze del loro primo incontro furono spesso oggetto di congetture c'è chi diceva che Dean venne a fare visita a Newman sul set e chi diceva che si incontrarono a un party Anna però dirà sempre di essersi imbattuta in lui mentre faceva un giretto sul set della Valle dell'Eden ma non importa davvero i due in qualche modo si incontrano e per i successivi tre mesi saranno inseparabili tre mesi sì ma che entreranno nella storia c'è da dire che la reputazione di Dean non era delle migliori era considerato un tipo piuttosto irascibile e talvolta malinconico con una passione per le auto da corsa e la velocità a sollecitare la relazione fra Anna e Dean c'era la gente di quest'ultimo che aveva bisogno di ripulire l'immagine di Dean dalle chiacchiere sempre più insistenti sulla sua bisessualità e sul suo carattere ombroso e cosa c'era di meglio ad una bellissima storia d'amore la gente non ebbe bisogno di fare molto perché Anna e Jimmy iniziano subito a frequentarsi e per la prima volta l'attrice frequentava un suo coetaneo ma Jimmy era lontanissimo dalla figura paterna che sempre aveva ricercato negli uomini era fragile vulnerabile molto più di quanto lo fosse lei lei lo chiamava Baby e lui con il nome in cui la chiamava il padre Annarella anche Jimmy come Pierre cercava forse una figura materna quella che lui aveva perso solo i nove anni ma c'erano anche tantissime cose che li separavano erano culturalmente distanti anni luce lei educata alle buone maniere ma ancora tanto immatura lui che sfidava il pericolo e la morte i due si incontravano durante le pause dal set e per quanto volessero tenere quell'affare segreto tutti avevano notato come passassero insieme ogni minuto libero inoltre stando sul set 8 ore al giorno 7 giorni su 7 i momenti in cui vedersi anche solo per un bacio erano tantissimi ma ad Anna e Jimmy quello non bastava più e la loro storia ben presto fu nota a tutti Anna la potevi vedere scorazzare sul Sunset Boulevard a bordo della Cadillac capottabile di Dean le sue braccia attorno alle spalle di lei e normalmente nei sedili posteriori avrebbe trovato posto l'immancabile Enrica questa volta invece erano vuoti per la fine di giugno Annarella e Baby avrebbero passato ogni momento insieme chi aveva la fortuna di incontrarli insieme non poteva fare a meno di pensare che quei due si amassero alla follia forse c'era un'aura di estremo romanticismo attorno a loro ma erano belli e innamorati ma nell'ombra c'era sempre lei Enrica e la sua ormai conclamata disapprovazione e tanto si speculerà su questa donna che dall'alto dell'influenza che esercitava sulla figlia passerà alla storia come quella che aveva rovinato il romanzo più bello di Hollywood arrivando a definire Anna e Jimmy come il Romeo e Giulietta del Sunset Boulevard tanto si parlerà delle intemperanze di Jimmy e dei tentativi di fare imbestialire Enrica si dirà che mettesse i suoi bei stivaloni sul tavolo che fosse sporco rude privo di buone maniere e cultura tutte cose a cui la donna tanto teneva ma si dirà soprattutto che incoraggiasse Anna a disobbedire alla madre ed essere molto più ribelle se veniva a trovare Anna mentre lei non c'era lui si dirigeva nella sua cabina armadio si toglieva le scarpe accendeva la radio e si scolava un bicchiere enorme di gin in attesa che Anna tornasse sempre Enrica racconta che quando erano insieme in casa Jimmy era solito sedere in un angolo con uno sguardo malinconico e quasi non le rivolgeva la parola ma non se ne andava mai rimaneva lì tutta la sera ma la pazienza di Enrica non era infinita e non passerà molto tempo prima che quella storia diventasse un vero problema per lei una vera spina nel fianco Enrica poi credeva che l'amore di Jimmy fosse di tipo ossessivo anzi egli secondo Enrica aveva idolatrato la figlia e questo per lei era motivo di sdegno un uomo non doveva mai idolatrare la propria compagna anche sulle sue doti recitative Enrica nutriva dei dubbi tutti ne parlavano come un talento puro per lei invece interpretava solo se stesso anche a Marisa Dean non piaceva affatto non tollerava la sua maleducazione nei confronti della madre il suo non salutare quando entrava in casa durante la festa di fine lavorazione della valle dell'Eden tutti acclamavano il film tutti tranne Marisa e quando lo disse a Jimmy egli si mostrò offeso come dirà Marisa il suo fragile ego non aveva retto di fronte alle critiche Marisa sarà quella che negli anni ridimensionerà quella storia d'amore definendola niente più che un flirt di poca importanza chi invece credeva tantissimo nel suo talento e tifava per lui era proprio Anna ne era certa Jimmy sarebbe diventato una star ogni tanto lo sbirciava da dietro le quinte mentre lui girava le sue scene e si fermava incantata di fronte al suo immenso talento anche Paul Newman veniva dalla stessa scuola ma a suo parere non aveva la stessa fame di recitare che aveva il suo Jimmy Jimmy e Anna li potevate vedere spesso al ristorante Villa Capri ad Hollywood Boulevard oppure in spiaggia mangiare un panino o a vedere i cavalli al Griffith Park i due però non potevano essere più diversi di così sempre elegantemente vestita Anna con i suoi abiti castigati e raffinati perfetta in ogni occasione trasandato lui con le sue t-shirt e l'immancabile chiodo di pelle da cui non si separava mai si diceva persino che Dean non amasse fare il bagno o radersi la barba un giorno che l'avevano invitata a un picnic si presentò senza camicia e con addosso solo una vecchia e logro a salopette non so cosa ci sia di vero in tutto questo e francamente non è neanche così importante saperlo sta di fatto che ad Hollywood nessuno vedeva bene quella relazione o meglio c'erano due fazioni quelli che tifavano per loro e quelli che invece li stroncavano a parte le major che ovviamente pregavano perché quella notorietà portasse la gente al cinema Pierre davanti alle solite domande dei giornalisti che le chiedevano della loro storia come un discorotto ripeteva sempre siamo molto amici è un grande attore non so cosa faremmo siamo ancora molto giovani nel frattempo però la sua carriera proprio non prendeva il volo e la MGM nonostante gli innumerevoli film girati ogni qual volta c'era un ruolo interessante per lei lei chiedeva di fare le audizioni come una qualsiasi esordiente peccato che poi il ruolo puntualmente andava a qualcun'altra e poi avvenne il fattaccio quello che segnò il punto di non ritorno nella storia d'amore fra Anna Maria Pierangeli e James Dean e anche in questo caso c'era di mezzo Enrica la donna insieme a un amico venuto dall'Italia andò a trovare Anna sul set del calice d'argento volevano farle una sorpresa ma fu lei a fare una sorpresa a loro perché dentro il suo camerino ci trovarono Jimmy per Enrica era qualcosa che andava al di là di tutto sua figlia dentro un camerino da solo con un uomo ma stiamo scherzando a quel punto Enrica impedirà a Jimmy di frequentare ancora la figlia Anna perse la libertà a fatica ritrovata in quegli ultimi mesi Enrica cambiò numero di telefono e mise un muro fra Anna e il mondo esterno e leggenda narra che un dine totalmente ubriaco un giorno si presentò fuori la villa delle Pierangeli urlando e sgommando con la sua motocicletta l'agente di Anna Bill Gass fu ingaggiato da Enrica per portarlo lontano da lì e darsi una calmata ma non tutti a Hollywood erano ostili alla loro storia in molti nelle retrovie aiutarono i due ragazzi a tenersi in contatto un giorno Jimmy pensò di toccare il cielo con un dito quando qualcuno tra le pieghe di un libro gli fece pervenire il nuovo numero di Anna ma non solo su pressioni da parte degli studios Enrica permise ad Anna di partecipare a una serata speciale della MGM una proiezione esclusiva della loro punta di diamante via col vento e ovviamente il suo accompagnatore era proprio lui James Dean due settimane dopo Jimmy le chiese di sposarlo successe mentre lei lo accompagnava in aeroporto in quell'occasione pare che Jim chiese ad Anna di venire a New York con lui e sposarsi lì solo lui e lei Anna però rifiutò perché avrebbe spezzato il cuore della madre se lo avesse fatto l'ultima loro apparizione pubblica sarà per la prima di Astarisborn nel settembre del 1954 neanche loro a quel tempo sapevano che non sarebbero mai più stati insieme e che quella foto apparsa sui tabloi del giorno dopo sarebbe stata l'ultima un grande amore era appena finito un amore che sarebbe diventato leggenda neanche due mesi dopo Anna Maria Pierangeli quasi a sorpresa sposerà un altro uomo Vic Damone Vic Damone era un crooner di origini italiane che fin da quando si erano conosciuti nel 52 letteralmente moriva dietro lei egli la riteneva la creatura più bella che fosse mai venuta al mondo e per quanto avesse la fama del classico stallone italo-americano per lui nessuna era equiparabile a lei così quando i due si rincontrano nell'ottobre del 1954 Vic Damone si dichiarò apertamente ma face di più le chiese di sposarlo e Anna accettò Vic era di casa dalle Pierangeli veniva spesso a preparare la sua specialità le lasagne alla Damone Enrica e Marisa lo adoravano era cattolico ben educato parlava italiano e per quanto avesse assorbito parte della cultura americana era pur sempre figlio di immigrati italiani Vic era consapevole che una loro unione non sarebbe stata osteggiata dalla matriarca tanto che fu lui stesso a comunicare la bella notizia a Enrica la chiamò al telefono e le disse mamma sposerò Anna quando Dean venne a sapere del loro fidanzamento Lampo ci rimase malissimo dirà non posso fingere che sia felice ma forse le piace la sua voce spero siano felici fingevano curanza Jimmy ma ne rimase devastato ovviamente non fu invitato al matrimonio che si tenne nella chiesa di San Timoti nel novembre del 54 e qui nacque la leggenda legata a quel particolare giorno un episodio che pare non essere mai accaduto ma chi sono io per negarvi la gioia di conoscere questo dettaglio seppur romanzato della loro storia d'amore pare infatti che Jimmy avesse minacciato di presentarsi al matrimonio di Anne Vick indossando il suo chiodo di pelle quello odiato da Enrica in sella alla sua motocicletta e che avrebbe aspettato gli sposi fuori dalla chiesa qualcuno giura di averlo visto sfrecciare e sgasare con la sua moto su e giù per la West Pico Boulevard proprio mentre i novelli sposi salutavano gli invitati sul sagrato della chiesa poi andò a prendere un caffè da Guggies dicendo vengo da un matrimonio chi era con lui in quel momento dirà che era a pezzi il suo cuore era a pezzi e tanto si ricamerà su questo cuore spezzato non sapremo mai come andarono davvero le cose fra di loro nessuno dei due ebbe modo di invecchiare e ripensare alla loro storia quantomeno non Jimmy che il 30 settembre del 1955 a bordo della sua Porsche 550 Spyder morirà andando a scontrarsi con un'altra auto lungo la California State Route 46 nel cruscotto dell'auto verrà ritrovato un certificato di matrimonio e uno con la formula di rito compilati solo nello spazio riservato alla sposa in piccolo a matita Jamie aveva scritto Pierre James Dean i suoi 25 anni gli unici tre film girati e tutto ciò che lo riguarderà compresa la sua storia con Anna Maria Pierangeli entreranno nel mito eterno ma torniamo a quel matrimonio lampo i due novelli sposi andarono a vivere in una splendida magione a Beverly Glen Canyon era una casa enorme isolata e che ad Anna non piaceva affatto due mesi dopo il matrimonio era già incinta di un bambino che sarebbe venuto al mondo il 21 agosto del 1955 con il nome di Perry Rocco Luigi Farinola Damone un bambino enorme quasi 5 chili e bellissimo un mese dopo Jimmy sarebbe morto Vic e Anna sembravano la coppia più felice del mondo ma quella era più che altro apparenza Vic era figlio unico cresciuto in una famiglia tradizionalista dove il ruolo della donna era ben delineato per dire Vic non ammetteva che Anna indossasse i pantaloni li trovava poco femminili la preferiva vestita di bianco e voleva sempre fiori freschi in casa e lei lo accontentava ma Vic si rivelò anche estremamente geloso di una gelosia lacerante le loro uscite erano un supplizio per Anna Maria perché Vic non sopportava che gli altri uomini la guardassero al punto che egli si piazzava sempre davanti a lei in modo da impedire la vista della moglie agli altri uomini lei nel frattempo doveva sempre guardare in basso sempre Anna però per una forma di ribellione verso quelle stupide scenate di gelosia a volte semplicemente trasgrediva quelle regole che l'uomo le imponeva come dirà la madre le bastava sbattere su e giù le lunghe ciglia per scatenare ancora di più la sua gelosia tossica poi però la ricopriva di regali chissà forse per farsi perdonare e tutto tornava tranquillo ma di fatto il loro era un rapporto che non sarebbe mai stato felice un matrimonio che a distanza di chilometri parecchi chilometri sconvolgerà anche l'esistenza di un giovane ragazzo siciliano Rosario di Grigorio un suo grande fan che l'ammirava al punto che in un momento di follia dopo aver scoperto che si era sposata mise fino alla sua vita impiccandosi un gesto assurdo dettato dalla consapevolezza di non poter mai avere l'amore della sua beniamina la madre del ragazzo dirà che il figlio aveva mandato migliaia di lettere alla Pierangeli lettere a cui lei però non aveva mai risposto nel 1956 ripresa a girare film in particolare girerà insieme a Paul Newman un film che è entrato di diritto nella storia del cinema lassù qualcuno mi ama che racconta la storia del famoso pugile Rocky Graziano nel film Pierangeli interpreta Norma la moglie di Rocky e la sua interpretazione è sublime delicata e conferma le sue doti recitative ma la vera star del film ovviamente sarà Paul Newman Anna avrebbe cercato a lungo il suo ruolo quello che l'avrebbe imposta all'attenzione di tutti ad esempio voleva recitare nel film Gigi ma non otterrà la parte che andrà alla meravigliosa Audrey Hepburn quel ruolo che tanto agognava ahimè non arriverà mai tra il 56 e il 57 gira quattro film in successione l'ultimo sarà Vintage con Mel Ferrer che verrà girato in Costa Azzurra altri tre mesi lontano da casa tre mesi senza Perry senza Vic senza riposo quando torna a Los Angeles decide finalmente di fermarsi ma Vic non le starà vicino Anna scoprirà di essere sola profondamente sola il suo matrimonio era ormai un guscio vuoto dove dentro non c'era più nulla nel 1958 Vic e Anna divorziano e inizia per l'attrice un periodo molto duro fatto di alti e bassi lavorativi ma anche nella sua vita privata ad esempio avrà tantissimi problemi con Vic per la custodia di Perry che farà avanti e indietro tra padre e madre e questo perché Perry aveva vissuto molto più tempo con il padre che con Anna e non che la considerasse un'estranea ma sentiva per lei un certo distacco quando stava con lei era un capriccio continuo e quando lo porterà con sé per girare il film S.O.S. Pacific alla Spalmas scoprirà quanto Perry vedesse in Vic la sua figura di riferimento inoltre la stampa l'ha presa di mira perché trovava sconsiderato il fatto che durante una causa di divorcio la donna trascinasse il figlio di qua e di là per girare dei film negli anni a venire quello sarà il pretesto per Vic per distruggerla in tribunale perché per lui non era e non sarebbe mai stata una madre adatta a crescere un figlio nel frattempo la NGM non le rinnoverà il contratto Anna Maria Pierangeli si trasferisce in Inghilterra dove girerà S.O.S. Pacific e il film drammatico La tortura del silenzio del 1960 la sua vita iniziava a precipitare era diventata una donna molto nervosa in preda all'ansia con un matrimonio fallito alle spalle un figlio che non vedeva in lei un porto sicuro nessuna casa di produzione che la proteggesse e sempre meno soldi solo quando recitava riusciva a tenere lontano i suoi demoni recitare era il suo balsamo al cuore ma fuori era tutto un disastro nel 1961 segue il consiglio della madre di tornare a Roma dove tutto era partito ed è con il cuore pieno di ottimismo e speranza che Anna Maria Pierangeli rimette piede nella sua terra natia lì avrebbe ricominciato a vivere o almeno così credeva ma non sapeva quanto si sbagliava e sarà per lei un duro risveglio perché nel frattempo a Roma era tutto cambiato e le attrici come lei erano ormai sorpassate adattarsi o soccombere non ebbe scelta non poteva neanche permettersi di vivere a Roma ecco perché andrà a vivere a Porto Ercole a Roma e in quella nuova industria del cinema iniziò a girare una sfilza di film di genere film in costume western tra cui le ultime giornate di Sodoma e Gomorra del regista Robert Atrich dove Sergio Leone viene accreditato come regista della seconda unità un film disastroso di cui lo stesso Leone rifiuterà la paternità sono tutti film dove l'immagine virginale di Anna dei primi anni della sua carriera è solo un ricordo come dirà la sorella Patrizia adesso le facciamo fare solo la prostituta della sua vita romana la madre dirà che Anna Maria aveva cominciato a ritenersi sorpassata come attrice come donna pensava di essere sbagliata fuori dal tempo quindi pensava di dover cambiare voleva diventare anche lei una donna spregiudicata maggiorata sexy si mise a frequentare i night si truccava pesantemente usciva con accompagnatori sempre diversi ingannata dalla sua incapacità a giudicare le persone e interpretava nella vita un ruolo non suo da donna fatale volgare un ruolo che sperava di ottenere pure nel cinema l'eterno bisogno di una figura paterna si concretizza nell'incontro con un uomo molto più grande di lei e che diventerà il suo secondo marito Armando Trovaioli Armando Trovaioli era un compositore e grande musicista jazz quando si incontrano Armando ha 44 anni 15 in più di Anna Maria e non è mai stato sposato non passa molto tempo dal loro incontro al loro matrimonio e anche in questo caso sarà un matrimonio disastroso che la porterà negli abissi della disperazione i due convolano a nozze nel 1962 a Londra alla Kensington Register Officer e vanno a vivere in un bellissimo appartamento in centro a Roma il matrimonio non andrà oltre la luna di miele inizierà a sfaldarsi quasi immediatamente per Armando Anna non era che un trofeo da esibire la bella e giovane moglie da portare in giro per il resto conducevano due esistenze completamente separate lui rinchiuso nel suo studio a comporre e registrare e Anna che doveva pensare a tutto il resto nessuno doveva disturbare il maestro con cose banali e di poco conto Anna che sognava la favola si ritrovò dentro un incubo presa a soffrire di insonnia e a rifugiarsi nell'alcol rinchiusa in una gabbia d'oro ma sola completamente sola un'altra volta tre mesi dopo il matrimonio scopre di essere incinta l'8 gennaio 1963 a Londra Anna mette al mondo Howard Andrew George Trovaioli che l'attrice chiamerà affettuosamente Popino Anna però non sarà mai più felice per quanto nascondesse le ferite quelle che erano visibili nei suoi occhi nel suo sguardo irrimediabilmente triste anche quel matrimonio finisce con un divorcio che fu quasi una liberazione Sara ufficialmente Trovaioli a mettere fine a quella relazione peccato che prima di dirlo ad Anna l'uomo lo abbia detto alla stampa la commedia è finita dirà Anna scoprirà così che il suo matrimonio era finito dai giornali Trovaioli è stata forse la pagina più brutta e squalida della sua vita un uomo freddo violento geloso iroso lo stesso Perry il primo figlio di Anna che ai tempi viveva ancora con la madre ricorderà un episodio miserevole del proprio patrigno un giorno lo aveva accusato di aver tagliuzzato i vestiti del fratellino e di averli ficcati in congelatore Perry si difenderà da quelle accuse ma l'uomo lo trascinerà nella sua camera e lo terrà chiuso per due giorni senza cibo sarà Enrica la nonna a tirarlo fuori da lì anche questo sarà motivo per Vic Damone di accelerare le pratiche per la custodia esclusiva di Perry una battaglia dura e stenuante che lo porterà anche a rapire il figlio alla fine la spunterà Vic a cui verrà affidata il bambino una vicenda che contribuirà a trascinare sempre più giù l'attrice Anna dopo il secondo divorzio perderà anche la custodia di Andrew che verrà affidata al padre per l'impossibilità della donna di occuparsene a dovere sempre più triste instabile sempre più travolta dai suoi demoni quelli romani sono anni in cui penserà sempre più spesso alla morte e in cui non riuscirà a non guardarsi indietro negli ultimi mesi della sua vita nel 1971 Anna Maria torna ad Hollywood la lunga parentesi romana durata più di dieci anni era stata disastrosa e le aveva portato solo sofferenze e depressione non venne accolta con la fanfara così come non era successo per il suo ritorno a Roma dieci anni erano tanti e per il cinema erano un tempo infinito a sostenerla in quegli ultimi mesi a Hollywood la sua grande amica Debbie Reynolds ma Hollywood era cambiata e non sarebbe stata più così generosa come un tempo nel frattempo nell'ambiente si parlava insistentemente di una nuova produzione quella del padrino Francis Ford Coppola cercava un'attrice italiana per interpretare a Polonia la prima moglie di Michael Corleone sarebbe stata l'occasione perfetta per tornare con una grande produzione ma nessuno la chiamò mai per il casting e il suo ultimo film sarà ben lontano da quel tipo di produzione Octaman è un horror splatter che avrà poca fortuna come tutto il resto anche a Hollywood dentro uno squalido appartamento che divideva con un'amica le sue giornate erano scandite dai bicchieri di alcol che beveva dai chili che perdeva dalle medicine che assumeva e dai demoni che la perseguitavano tuttavia continua a lavorare come aveva sempre fatto partecipa ad alcuni pilota cioè primi episodi di serie televisive ed era in procinto di firmare altri contratti e poi aveva ripreso i rapporti con il suo adorato Perry ma tutto quello non bastava più a riempirle la vita è la sera del 9 settembre 1971 l'ultimo giorno di vita di Anna nel pomeriggio l'attrice chiama il suo medico personale e lo prega di venire subito il medico accorre e la trova in un gravissimo stato di agitazione aveva finito il Doriden un sedativo che gli aveva prescritto per curare la sua insonnia e di cui era diventata rapidamente dipendente Anna aveva bisogno di dormire per essere pronta per un'intervista aveva solo un bisogno disperato di dormire un po' il suo medico le inietterà un calmante e la lascerà dormire almeno così crederà l'amica che viveva con lei la troverà a faccia in giù con i lunghi capelli sparsi sul cuscino e credendola addormentata non la sveglierà peccato che Anna non stesse dormendo Anna era scivolata dalla vita alla morte forse senza quasi accorgersene chissà il suo corpo privo di vita verrà ritrovato solo il giorno dopo chi la troverà provvederà a far sparire tutte le sue medicine forse per non far sembrare che quello fosse un suicidio cosa è davvero accaduto non si saprà mai con certezza ufficialmente Anna Maria Pierangeli è morta per un sovradosaggio di farmaci aveva solo 40 anni dopo i funerali a cui parteciperanno in tanti verrà seppellita a Parigi per volere della sorella gemella Marisa alla notizia della sua morte Trovaioli dirà quando ho saputo della morte di Anna Maria non ho provato dolore ma un senso di sollievo sono stato quasi tentato di bere una bottiglia di whisky Anna Maria mi ha rovinato la vita pensate un po' Anna Maria Pierangeli era una donna complessa controversa immensamente fragile la sua è stata un'esistenza alla ricerca di una felicità inafferrabile si dice che tra le sue carte siano state trovate delle lettere tra cui una dove menzionava Jimmy Dean come unico amore della sua vita la madre e la sorella faranno scuda attorno a lei per proteggerne la memoria e saranno contro ogni illazione o paragone con altre dive infelici come lei ci sarebbero tantissime altre cose da dire sulla vita di quest'attrice che alla fine è passata alla storia solo per il suo flirt con James Dean tutte le informazioni che vi ho raccontate in questo video sono state tratte dal libro di Jane Allen che si chiama Pierangeli una vita fragile un libro molto dettagliato parecchio dettagliato di cui ho davvero fatto un sunto ed è venuto fuori un video lunghissimo che se non mi fermava qualcuno sarebbe andato avanti per 5 ore tipo infatti mi dispiace se poi alla fine ho dovuto un pochino accelerare le tempistiche ma davvero la vita di Anna Maria Pierangeli è come una montagna russa su e giù su e giù insomma è successo di tutto nella sua vita e mi sarebbe piaciuto raccontare di più ma davvero sarebbe venuto fuori un video immenso e non tanto per il fatto che voi odiate i video lunghi anzi so che adorate questo genere di video ma per me che non sarei riuscito a finirlo in tempo ad ogni modo questo è tutto quello che avevo da dire sulla vita di questa straordinaria attrice che non ha avuto l'occasione giusta non ha avuto il ruolo giusto perché secondo me davvero c'era tanta intensità nella sua recitazione ed è un peccato che Hollywood le abbia promesso questa vita le abbia paventato una vita da star e poi l'abbia letteralmente lasciato in un angolo non le abbia dato quell'opportunità che le sarebbe servita per emergere come attrice soprattutto ci vediamo al prossimo video vi ringrazio per le molteplici iscrizioni l'avete visto in tanti sono felicissima il video di Vivian Lee intendo ci vediamo a Hollywood Boulevard ciao